Bentornati, ecco il video sul calcio mercato di oggi, giovedì. Per parlare di mercato di Milan e per parlare della situazione, per cercare in un certo senso di esorcizzare le nubi che si stanno addensando sopra Milanello per il pareggio di ieri con la SPAL, per le notizie degli ultimi giorni che sono arrivate relative a un interessamento del Napoli per Soboslai, ecco che voglio presentarvi e introdurre un amico che potrebbe darci una mano per esorcizzare questa situazione, e cioè il gatto nero. Questo è un poster che ho in casa mia e come vedete lo tengo oggi qui alle mie spalle, proprio perché ci dia una mano a scacciare le cose negative. Parliamo allora delle ultime notizie, tra poco parleremo anche di Soboslai e di quello che è successo ieri. Ultime notizie di mercato. Don Balon, che è una fonte che sappiamo non essere proprio il massimo dell'attendibilità, ci racconta di un'offerta presentata dal Milan al Napoli da 40 milioni di euro per Irving Lozano. Irving Lozano è l'attaccante messicano che è arrivato la scorsa estate al Napoli e che, sapete, ha avuto tante difficoltà con Ancelotti prima e con Gattuso, poi non stiamo nemmeno a parlare, nel quale lo ha di fatto eliminato dalle sue preferenze a parole qualche mese fa. Ebbene, Lozano sarebbe uno degli obiettivi di Ralf Rangnick, una notizia alla quale credo poco per tanti motivi, innanzitutto perché l'offerta del Milan è quella che praticamente il Napoli ha speso la scorsa estate per prelevarlo dal PSV di Eindhoven, per cui non capisco sinceramente dopo una stagione molto negativa perché il giocatore debba valere la stessa cifra che è stata pagata l'anno scorso quando arrivava da due stagioni con la Eindhoven da 19 e 21 gol. E poi perché in ogni caso un investimento da 40 milioni di euro per un singolo giocatore con l'obbligo di trattare con De Laurenti se è giunto, gli mi sembra una cosa abbastanza fantascientifica. Anche perché poi Lozano è tatticamente un equivoco, e l'abbiamo visto anche a Napoli, un equivoco perché lui è un esterno da 4-3-3, un esterno attacco da 4-3-3. I tentativi di trasformarlo in seconda punta sono stati poco fruttiferi da parte del Napoli ed ecco che la situazione è quella di un giocatore che secondo me si è svalutato, ma che secondo me ha del talento, ha dei numeri. Ed è chiaro che i 19 e 21 gol di cui parlavo fatti col PSV di Eindhoven sono stati fatti in un campionato che va assolutamente relativizzato, ma in ogni caso resta un eccellente attaccante. Però resta un attaccante da 4-3-3, o volendo proprio esagerare, un attaccante da 4-2-3-1. Non certo, secondo me, un giocatore che può agire da seconda punta, ed ecco perché dell'equivoco anche a Napoli. Passiamo oltre, perché secondo me questa cosa non è molto vera, ma mi piaceva l'idea di sapere la vostra opinione su Lozano, perché a me piaceva molto come giocatore, piace ancora, ma ripeto, come gioca nel Messico, quindi esterno nel 4-3-3. Veniamo alle questioni relative a Rangnick e Soboslai. Allora, ieri c'è stata la festa del Salisburgo, alla quale ha partecipato Rangnick, che era in tribuna e ha visto il nostro Dominic segnare uno splendido gol su calcio di punizione. Nella vittoria per 4-2 del Salisburgo, ebbene, le cronache e le indiscrezioni raccolte nei corridoi ci raccontano di un dialogo avuto tra Rangnick e Soboslai con oggetto il Milan. Non tanto in termini di verresti a Milan, quanto in termini di quando ci vedremo al Milan. Almeno questo è quello che raccontano le indiscrezioni, quindi vanno prese come tali, naturalmente. Ma in ogni caso il fatto che ci siano nella stessa stanza Soboslai e Rangnick, per noi, anche avvalendoci, come dicevo, dell'aiuto del gatto nero, potrebbe essere una buona notizia. Potrebbe essere una buona notizia perché sapete che negli ultimi giorni c'è stato un interessamento e un pressing molto forte del Napoli sul ragazzo. Però vediamo se tutte le cose che devono sistemarsi si sistemeranno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ne sapremo sicuramente di più. In ogni caso, ieri Rangnick non si è visto solo con Soboslai nei corridoi, ma a quanto pare ha parlato anche con Marcus Schopp, che è un ex calciatore, tra l'altro in Italia ha giocato anche nel Brescia, attualmente allena in Austria, che potrebbe entrare a far parte dello staff di Rangnick come supervisore al Milan. Staremo a vedere. A proposito di Rangnick, Franco Ordine ci racconta che notizie che derivano da Milanello parlano di un Rangnick intenzionato a fare soltanto il dominus al Milan e non anche l'allenatore. Sky invece dice che farà anche l'allenatore e io sono più per questa seconda ipotesi. Cioè, secondo me, come vi ho sempre detto il primo anno, Rangnick farà anche l'allenatore. Veniamo a alcune notizie un po' di contorno, ma importanti, per quel che riguarda Sare Makers, i quali ieri si è messo in mostra, poi magari domani ne parliamo meglio, parliamo anche di Pakheta e di Leao. In ogni caso, Sare Makers è stato ufficialmente riscattato ieri, sapete, il costo totale dell'operazione è 8 milioni di euro, contratto fino al 2024. Ha parlato l'agente di Chier, che è un altro giocatore che è lì, dove dovremmo capire se rimarrà oppure no. L'agente di Chier ha detto che la volontà del giocatore sarebbe quella di rimanere al Milan. Ieri abbiamo visto quanto Chier è mancato, o quantomeno quanto è mancato, un difensore centrale di spessore al fianco di Romagnoli. Anche lì bisognerebbe fare un ragionamento molto più ampio, magari lo faremo. Quindi vedremo quale sarà la situazione di Chier e se arriverà questo famoso riscatto. Chiudiamo con una cosa simpatica fino a un certo punto, nel senso che Di Marzio ha rilanciato la notizia di un interessamento della Lokomotiv Mosca per l'Axalt e il possibile scambio, o comunque la possibile trattativa, con dentro il trequartista della Lokomotiv Miranciuk. Ebbene oggi, se avete visto, è uscito un tweet dove la Lokomotiv dice che l'Axalt gli interessa, ma l'Axalt più 25 milioni per avere Miranciuk. Quindi un pochino così è stato sbeffeggiato il povero Di Marzio, il quale ha riportato semplicemente una notizia. Questo è quanto. Adesso attendo le vostre opinioni, i vostri commenti. Voglio sapere su Lozano e cosa ne pensate. Voglio sapere se avete visto la foto di Rangnick ieri in tribuna a Salisburgo. Mettete un like al video, non tanto per me quanto per lui, perché porta bene. Iscrivetevi al canale e noi ci sentiamo domani.